Con l'ingresso in zona bianca a Chieti non ci sarà alcuna restrizione ulteriore rispetto a quanto dispone il governo, lo conferma il sindaco Diego Ferrara. Non sarà un liberi tutti, evidenzia il primo cittadino, perché le regole sul distanziamento e sulle mascherine da indossare anche all'aperto e sul contingentamento delle presenze nei locali restano vigenti e sarà nostra primura a fare i controlli per garantire il rispetto di quanto stabilito dal governo per arrestare la pandemia. Non ho assolutamente intenzione di fare ulteriori restrizioni rispetto a quelle già decise, abbiamo necessità tutti di rivivere, rivivere nel miglior modo possibile, di ridare spazio e respiro alla economia, sempre ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza. Da un punto di vista istituzionale c'è un raccordo con altre istituzioni, con il prefetto, con le forze dell'ordine di qualunque grado per vigilare attentamente sul comportamento sociale dei nostri concittadini. Per riguardo proprio a questo argomento io rivolgo l'ennesimo plauso ai miei concittadini per essere stati bravissimi durante tutto il lockdown e i numeri, accanto al problema delle vaccinazioni che sono andate e stanno andando bene, i numeri ce ne danno ragione. Chieti è da mesi a livelli di incidenza della malattia virale talmente bassi da essere considerata la città più immune.